... Si intravede una soluzione per il punto nascite. In programma al Veneziale un incontro tra la pediatra prossima alla pensione e Florenzano per valutare l'ipotesi di restare in servizio. Intanto risolto il turno al pronto soccorso di Agnone. I scatori dal ministro per il caro gasolio incontro con Pato Anelli delle marinerie dell'Adriatico a Termoli dopo il fermo delle barche e invocati interventi per fare fronte all'emergenza carburante. Sciopero della scuola il 30 maggio con federali Snalz e Gilda chiedono il rinnovo del contratto e la stabilità per i precari. Domani assemblea generale contro il decreto del governo. La strage di Capaci ricordata dagli studenti 30 anni fa l'attentato al giudice Giovanni Falcone alla sua scorta, una delle pagine più nere dell'Italia repubblicana, simbolo della legalità insieme a Borsellino. Coda play-out per il vasto Girardi ancora contro il Vomano per la salvezza in Serie D. Domenica in casa senza appello. Città di Sernia in play-off nazionali per un posto in quarta serie. Buon pomeriggio dal telegiornale edizione delle 14. in apertura parliamo di sanità perché sembra che si stiano sbrogliando due nodi che erano sul tavolo, quello del punto nascite del Veneziale di Sernia e quello relativo ai turni dei medici in servizio al pronto soccorso del caracciolo di Agnone. ci sta mettendo le mani l'ASREM con un incontro in programma in settimana con la pediatra che dovrebbe lasciare per avanzati limiti di età e di servizio ovviamente e il rifacimento dei turni al caracciolo. Ci dice di più in questo servizio Enzo Di Gaetano. Ogni settimana comincia con un problema. La situazione dell'ospedale veneziale di Sernia continua sempre tra alti e bassi. Cominciamo con la notizia del giorno, ovvero la decisione dell'ASREM di esonerare i medici di Sernia dai turni al punto di primo soccorso dell'ospedale di Agnone, fino ad oggi garantiti dai sanitari del pronto soccorso del Veneziale. Il servizio sarà assicurato da un medico vincitore di un avviso pubblico al San Francesco Caracciolo e da un medico in trasferta a turno dal Cardarelli di Campobasso. Il provvedimento dovrebbe così consentire di tirare il fiato ai soli quattro medici del pronto soccorso di Sernia che non erano assolutamente in grado di reggere entrambi i servizi di medicina d'urgenza. L'altra questione che resta sempre aperta è quella dell'unità operativa di pediatria. Come è noto, uno dei due pediatri si trasferirà in Campania per prendere servizio in un altro ospedale. L'altra unità, Donnina Pannoni, responsabile dell'unità operativa, va invece in pensione, ragion per cui nel giro di poche settimane il servizio sarà sguarnito di medici di ruolo con conseguenze devastanti perché entra in zona rischio anche il punto nascite dove è prevista la presenza obbligatoria di un pediatra in sala parto. Senza pediatra non si lasce più a Sernia e le gestanti dovranno tutti andare a Campobasso. Per non chiudere il punto nascite, quindi, ci sono solo due strade da battere. Convincere la Pannoni a restare in servizio rimandando la pensione oppure organizzare la presenza in turni di pediatri in trasferta dal Cardarelli. Del resto l'unità operativa di Sernia, come primario responsabile, lo stesso dirigente del servizio di Campobasso. Per finire, dopo pronto soccorso e pediatria, un'altra grana in vista è quella di chirurgia dove il responsabile del servizio, Giovanni Viliardi, si avvicina all'età della pensione mentre un altro chirurgo, Enrico Caranci, tra poco cesserà il servizio per limiti di età. E mentre le cose precipitano, tutto accade nel silenzio assordante di Palazzo San Francesco con l'amministrazione Castrataro che dopo aver portato Toma in Consiglio Comunale è rimasta inerte mentre una forte presa di posizione di Castrataro per pediatria sarebbe stata il minimo sindacale per un sindaco che ha sempre detto di voler vortare pagina. Si riducono di quasi un quarto in una settimana i dati sui nuovi casi Covid. La curva della variante Omicron sembra ormai alle spalle. La discesa, dicono gli esperti, ha imboccato una velocità molto sostenuta. È stata proprio la variante Omicron a rallentare il calo dei contagi e salvo nuove varianti o sottovarianti, è sempre il parere degli esperti, le cose dovrebbero andare bene fino all'autunno, anche se preoccupa il dato basso di quarte dosi di vaccino. In Molise i positivi in una settimana sono passati da 1749 a 1114, con un meno 36%. Adesso parliamo dell'avviso pubblico della Giunta regionale nel settore turismo e cultura. Il bando, che è stato messo a punto ed è stato pubblicato da qualche giorno, contiene anche un'altra novità, riguarda i cosiddetti grandi eventi per i quali sono imprevisti 600 mila euro. Pasquale Di Bello ne ha parlato con Vincenzo Cotugno. Sono i grandi eventi di carattere nazionale ed internazionale la novità contenuta nel bando turismo e cultura licenziato dalla Regione Molise. Dei comprensivi 3 milioni appostati per il biennio 2022-2023 è di 600 mila euro la somma destinata alle manifestazioni che abbiano carattere nazionale ed internazionale ed abbiano un'anzianità ultra-trentennale. Diversa anche la quota finanziabile rispetto agli eventi ordinari per i quali il limite è posto a 10 mila euro. Per i grandi eventi, quali a puro titolo di esempio, Misteri, Indocciata, Carresi, Processione a Mare di San Basso, il finanziamento può arrivare sino a 40 mila euro. Le innovazioni sono due. Una è quella di avere appostato delle risorse per i grandi eventi e per grandi eventi parliamo degli eventi che hanno una storicità almeno trentennale tipo Indocciata, tipo I Misteri, tipo Le Carresi ed altri ancora che ce ne sono sulla nostra Regione per una maggiore e migliore valorizzazione degli eventi stessi. Poi l'altra novità è quella di un bando biennale per evitare che ci possano essere problemi nel 2023 nella programmazione 2023 a seguito delle elezioni che ci saranno nella nostra Regione a primavera. La programmazione biennale 2022-2023 arriva a valle di un lungo percorso iniziato con gli Stati Generali del Turismo e della Cultura e proseguito con l'adozione da parte del Consiglio regionale del piano strategico per entrambi i comparti. Ma noi ci abbiamo creduto come governo regionale, come assessorato abbiamo creduto molto in quello che è lo sviluppo turistico della nostra Regione con il piano strategico del turismo abbiamo voluto dare una vision, un sogno per il turismo regionale che possa diventare sempre di più un volano economico e di sviluppo economico ed occupazionale. Parliamo adesso della situazione difficile che stanno vivendo gli imprenditori del settore della pesca e soprattutto le marinerie, i titolari della flotta delle flotte dall'Emilia Romagna alla Puglia le barche sono ferme, lo abbiamo detto nei giorni scorsi le marinerie incontrano il ministro Patuanelli con l'obiettivo di trovare una situazione sentiamo qual è il quadro nel servizio di Andrea Nasillo Nel fine settimana hanno deciso di fermare per sette giorni le barche alla riunione di termoli hanno partecipato anche rappresentanti delle marinerie di Marche, Abruzzo e Puglia il caro gasolio è un macigno pesantissimo le richieste degli operatori della pesca sono accorate oggi il giorno dell'incontro delle organizzazioni sindacali con il ministro Stefano Patuanelli non c'è più tempo, il settore è in agonia a Roma al ministero anche due rappresentanti termolesi della categoria Domenico Guidotti di Federco Pesca e Paola Marinucci dell'Associazione Armatori del Molise resta valido l'appello a fissare un tetto massimo di 50 centesimi per il gasolio tra le richieste per fronteggiare questa crisi anche l'attivazione dello strumento della cassa integrazione straordinaria attualmente rimasta inutilizzabile armatori e pescatori chiedono di sollecitare l'Europa per avere risorse finanziarie aggiuntive poi gli indennizi del fermo biologico oltre all'attivazione di procedure semplificate di accesso al credito sospensione dei mutui in essere e garanzie su quelli in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici lo stato di agitazione lampante e concreto dal ministro Patuanelli vogliono solo garanzie e risposte con i fatti Meno soldi previsto nel bilancio regionale per i consorsi di bonifica un tema su cui col diretti CIA e Confagricoltura esprimono perplessità dal momento che gli impegni assunti dal presidente Toma nelle riunioni che hanno preceduto il bilancio prevedevano una posta di 500 mila euro anziché 350 mila le difficoltà riguardano soprattutto l'irrigazione per questo le organizzazioni di categoria rimarcano che le preoccupazioni su una gestione funzionale dei consorsi di bonifica restano in piedi in particolare per la campagna irrigua in corso col diretti CIA e Confagricoltura hanno chiesto al governatore di chiarire le ragioni di questa scelta una decisione hanno concluso in pieno contrasto con le aspettative delle imprese agricole e anche in Molise i sindacati della categoria del settore scuola aderiscono allo sciopero proclamato nel comparto per il 30 maggio domani assemblea in videoconferenza dalle 8 alle 11 e poi il risultato sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa sentiamo ancora una fumata nera tra i sindacati della scuola e il ministero dell'istruzione nessun accordo e sciopero già proclamato dalle sigle di categoria per il 30 maggio lunedì prossimo si fermeranno gli insegnanti e il personale tecnico amministrativo CGL Cislewil, Snals e Gilda rivendicano il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a dicembre del 2018 e accusano il governo di andare avanti per decreti su questioni che invece attengono alla materia contrattuale il nuovo disegno di legge sostengono anche in Molise i rappresentanti sindacali della scuola prevede un meccanismo per acquisire l'abilitazione poco qualificativo e ignora le tutele per i precari introduce l'ennesima struttura burocratica denominata scuola di alta formazione prevede incentivi una tantum e non per tutti reperendo le poche risorse dall'ennesimo taglio degli organici chiediamo hanno annunciato la fratta della CGL e dei siati della Cisle fratangelo per la Will, Candeloro dello Snals e Rauso per la Gilda che il governo individui le risorse per il rinnovo del contratto e per stabilizzare i precari la pandemia prima e l'inflazione oggi stanno penalizzando in modo drammatico i precari in particolare ma in generale tutti i lavoratori della scuola la rigidità mostrata dal ministero hanno aggiunto non ha lasciato margini alla trattativa a Campobasso domani è in programma un'assemblea regionale in videoconferenza dalle 8 alle 11 il cui risultato sarà poi illustrato alla stampa nella sede della CGL di Via Mosca resta al momento confermato per l'intera categoria lo sciopero del 30 maggio dieci giorni di chiusura per un bar di termoli frequentato da persone con precedenti per droga uno dei quali era utilizzato dai proprietari del locale come buttafuori abusivo polizia amministrativa e carabinieri hanno svolto le indagini che hanno accertato anche la presenza di persone su cui gravava il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Termoli la chiusura è stata disposta dal questore di Campobasso Conticchio che ha ricordato che questo è il quinto provvedimento adottato a Termoli dall'inizio dell'anno a indirizzo di altrettante attività 30 anni fa la strage di Capaci una bomba sotto l'autostrada che collegava Palermo all'aeroporto della città fece saltare in aria l'auto su cui viaggiavano il giudice Giovanni Falcone sua moglie Francesca Morvillo e poi le auto della scorta che seguivano il magistrato il giorno dell'attentato è stato ricordato con diverse iniziative cominciamo da quella che si è svolta all'istituto Pilla che ha seguito per noi Anna Maria Di Matteo 30 anni fa le 17.57 il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta perdevano la vita in un terribile attentato di mafia, la strage di Capaci da allora il 23 maggio si celebra la giornata nazionale della legalità a Campobasso in occasione del trentesimo anniversario della strage al Pilla si è svolta una manifestazione con la proiezione di docufilm alla quale hanno preso parte gli studenti ma anche i rappresentanti delle forze dell'ordine delle istituzioni e del mondo della scuola un momento per dire con forza no a tutte le mafie e sostenere con altrettanto vigore l'affermazione della legalità fare memoria è importante perché vuol dire consegnare ai più giovani della nostra società un testimone su messaggi che sono eterni la morte di Falcone è avvenuta in un momento storico preciso ma gli insegnamenti che ne scaturiscono appunto di legalità, di giustizia anche di coraggio perché alla fine questo grande magistrato insieme a tutti i suoi collaboratori ha dato anche una grande testimonianza di coraggio ha sacrificato la sua vita a dei valori più alti perché Falcone era ben consapevole dei rischi che correva dunque questo è il messaggio più importante che ne possiamo trasmettere ai nostri studenti ovvero la capacità di impegnarsi a livelli elevatissimi e oggi la sua scuola ospita un evento molto importante oggi siamo qui per commemorare la memoria del giudice Giovanni Falcone in occasione del trentennale della strage di Capaci siamo qui per farlo insieme e per farlo insieme soprattutto ai nostri ragazzi per farlo per loro perché la memoria torni a rivivere costantemente con una finalità che è quella di costruire una coscienza civile non certo di generare accredine e violenza di fronte ad eventi così efferati quale appunto quell'esplosione di trent'anni fa il rischio è questo il rischio è che l'uomo perda la sua umanità e non comprenda come sia necessario rispondere a giassi concreti si risponde con l'educazione si risponde con la scuola si risponde formando i giovani di ieri e anche attraverso giornate come queste ricordando qual è il rischio quando si perde il senso del bene comune e del rispetto delle regole e il sindaco di Campobasso Roberto Gravina nell'orario preciso in cui fu fatta saltare fu fatto esplodere il tritolo alle 17.57 sarà davanti alla sede del municipio di Campobasso con la fascia tricolore ad ascoltare il silenzio d'ordinanza osservando un minuto di raccoglimento così come avverrà in tante città d'Italia Insieme siamo capaci è stato invece il titolo del convegno presentato all'auditorium a Isernia con anche in questo caso gli studenti e le autorità ce ne parla in questo servizio Valeria Migliore Sono trascorsi 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio in cui tra le tante altre vittime del dovere persero la vita anche i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Il ricordo resta vivo nella memoria di chi quei giorni le ha vissuti in prima persona Mi ricordo il periodo mi ricordo quelle giornate mi ricordo che a Palermo non succedeva niente perché dovevano fare quello che dovevano fare è successo quello che è successo e poi si va avanti perché comunque la vita va avanti mancano i colleghi con cui ho condiviso diverse giornate lavorative specialmente con Manuela Loe e cerchiamo di andare avanti nella speranza di poter trovare chi ha fatto tutto questo sappiamo chi l'ha fatto ma vogliamo sapere i mandanti chi sono Anche quest'anno il sindacato autonomo di polizia ha organizzato un convegno all'auditorium di Isernia per ricordare tutte le vittime del dovere e della criminalità con un pubblico di numerosi studenti che già in classe hanno affrontato percorsi di legalità Quello che devono comprendere i giovani tra le altre cose è che chi ha dato la vita per fedeltà all'impegno al giuramento verso i principi costituzionali che sono alla base dell'assetto democratico ricordarli e onorarli significa vivere ogni giorno nella legalità è stato il vero primo assaggio d'estate tanti turisti nel fine settimana che si è appena concluso con le temperature davvero estive che hanno consentito alle persone di affollare le spiagge del Molise da Montenero a Campomarino è iniziato dunque questo scorcio di primo appuntamento con la stagione estiva da quest'anno la Regione ha imposto ai balneatori di farsi trovare pronti alla data del 20 maggio e così è stato anche se alleggerite restano comunque le raccomandazioni in materia Covid la prudenza soprattutto ma comunque abbiamo anche assistito a turisti che continuano ad avere addosso la mascherina anche sotto l'ombrellone e tra i tanti eventi che tornano in presenza dopo la pandemia anche la rassegna ti racconto un libro giunta al ventesimo anno di appuntamenti si aprirà domani alle 18.30 con Pietro Dorfles scrittore giornalista e critico letterario il cartellone è stato presentato questa mattina a Campobasso il servizio di Anna Maria Di Matteo Torna dopo la pandemia la rassegna ti racconto un libro che quest'anno festeggia 20 anni di attività un traguardo importante raggiunto grazie all'impegno messo in campo e che ha fatto di questa manifestazione un appuntamento culturale fisso per la città di Campobasso la presentazione in mattinata al comune Brunella Santoli l'anima della rassegna è a dir poco raggiante per esserci di nuovo e soprattutto in presenza siamo felicissimi anche perché quest'anno è veramente una festa 20 anni di attività sono veramente tanti e quindi veramente con gioia siamo arrivati a questo giorno e poi partiremo con tutto il programma allora che cosa avete preparato per questo ventesimo anno di attività? allora premetto che era a cuore di tutti dell'Ulim e anche del comune di Campobasso che sostiene completamente questa iniziativa quella di dare molto spazio all'infanzia perché sicuramente i bambini sono stati le vittime maggiori insomma di questo periodo di assenza di tutto, di socialità quindi ci sarà soprattutto una seconda parte con grandissimi nomi di scrittori, illustratori insomma grossi personaggi del mondo della letteratura per l'infanzia che verranno veramente tutti con molto entusiasmo e poi c'è il premio Buldrini il premio Buldrini ventesima edizione anche per il premio Buldrini dall'anno scorso abbiamo cambiato la formula quindi sempre più un premio per i giovani dai 16 ai 36 anni e altro appuntamento importante ormai da sei anni nel cartellone di Ti racconto il libro è Scritto di cuore il concorso nazionale di scrittura che è destinato agli istituti carcerari di tutta Italia Finalmente quest'anno riusciamo a riproporre l'intero cartellone confermando anche di questo insomma siamo molto orgogliosi il patrocino della provincia e soprattutto un protocollo di intesa con la stessa che ci consente per tutto il cartellone dell'Uli di utilizzare la sala della Costituzione Oltre 250 persone in arrivo a Termoli per partecipare al primo concorso nazionale di pasticceria per ragazzi l'istituto alberghiero è partner ce ne parla in questo servizio Andrea Nasillo Un evento unico nel suo genere all'istituto Federico di Svevia di Termoli il primo concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali degli istituti alberghieri d'Italia studenti, docenti, dirigenti e genitori provenienti da quasi tutto il paese arriveranno nella città adriatica abilità e inclusione si fondono in un progetto che vede scuola e studenti in primo piano ci riferiamo, ha detto la preside Chimisso ai ragazzi speciali vogliamo dimostrare che tutti possono essere campioni da tutta Italia vengono ragazzi speciali a dimostrare che la loro straordinarietà sta nell'essere uguali a tutti noi noi siamo una scuola di inclusione e vogliamo che ci sia un'opportunità anche per ragazzi che di solito sono discriminati tagliati fuori dalle competizioni e dunque per questo motivo abbiamo creato una competizione per loro perché abbiano modo attraverso la preparazione di un prodotto di alta pasticceria di esprimersi al meglio Il concorso patrocinato dal Ministero dell'Istruzione riveste particolare importanza in quanto mira a valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con programmazione differenziata provenienti dagli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera d'Italia Sarà un bel momento per l'esclusività dell'evento ma soprattutto per anche un discorso di marketing turistico territoriale quindi che Termoli ospiterà tutte queste persone che verranno per l'evento Un evento esclusivo un evento importante a livello nazionale che dire qualcosa di straordinario e di molto complesso a livello organizzativo però c'è la soddisfazione di dare la possibilità a ragazzi speciali di essere protagonisti in un evento nazionale importante 24 team che si sfideranno nella preparazione di 5 dessert a squadra attenzionati dalla giuria presieduta da Cinzia Iotti un dolce sarà preparato invece per l'esposizione per tutti gli studenti e le studentesse un'opportunità straordinaria per integrare abilità competenze e creatività In qualità di referente per l'inclusione è un evento importantissimo per noi io lavoro personalmente da tanti anni in questo ambito e questa è una grande soddisfazione per noi perché vede i nostri ragazzi protagonisti protagonisti di un concorso a tutti gli effetti competitivo sono emozionatissimi li ho visti già in preparazione con i loro docenti da noi non è uno slogan l'inclusione ma è la realtà Adesso parliamo del progetto degli Amici di Sara che è dedicato a screening precoci è stato firmato anche un protocollo d'intesa tra il Neuromed della Lega Italiana per la lotta ai tumori ce ne parla Valeria Migliore Il Neuromed della Lega Italiana lotta a tumori hanno firmato un protocollo d'intesa per la prevenzione delle malattie oncologiche il progetto si chiama Amici di Sara ed è dedicato a tutte le norme di comportamento per un corretto stile di vita che precedono le diagnosi precoci e che possono addirittura evitarle per questo il presidente del Neuromed Giovanni De Gaetano parla di cura dei sani Dobbiamo distinguere la diagnosi precoce dalla prevenzione la diagnosi precoce è importantissima soprattutto per i tumori ma noi vogliamo lavorare ancora prima della diagnosi vorremmo non arrivare alla necessità di una diagnosi seppur precoce per questo la prevenzione che comporta e riguarda gli stili di vita l'ambiente in cui si vive anche dei controlli però quando siamo sani a noi piace dire la cura dei sani il presidente regionale della Lilt il dottor Mario Pietracupa ha sottolineato l'importanza della prevenzione noi dobbiamo diffondere innanzitutto la cultura della prevenzione fare in modo che si sappia quali sono gli strumenti per poter affrontare alcune patologie e se riusciamo ad ottenere questo ci sarà anche una maggiore sensibilità da parte anche degli interlocutori istituzionali a mio avviso siamo un esempio a livello nazionale la nostra aspirazione e quella di fare di questa regione un punto di riferimento la nostra speranza un punto di riferimento che possa essere di eccellenza dal punto di vista della prevenzione prima di salutarci vi facciamo vedere i festeggiamenti dei tifosi del Milan che insomma sono scesi in strada dopo la conquista dopo undici anni del diciannovesimo scudetto siamo a Isernia in questo caso in piazza stazione nel centro storico della città cori sfilate di auto e di motociclette ma anche gente a piedi anche per via delle temperature che sono state per tutto il giorno e fino a sera molto gradevoli e come vedete il popolo rosso nero si è ritrovato sotto le insegne appunto dei colori della squadra milanista e i tifosi si sono riversati in strada con magliette e sciarpe intonando i cori della vittoria fino a tardanotte con riferimenti naturalmente ai cugini dell'Inter e ai rivali della Juventus e con queste immagini concludiamo anche l'edizione alle 14 del nostro telegiornale vi lascio alle previsioni del tempo ci ritroviamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti per il momento è tutto grazie e buon pomeriggio grazie a tutti